Ciao amici Vacanzelandia! Ciao amici Vacanzelandia! Ci siete? Sì! Noi ci siamo ma pronti? Partenza via! Eccola qua! Ma non siamo pronti per partire noi! Come no? Guarda che bella maglietta che abbiamo! No però la stiamo indossando per testarla perché deve diventare la maglietta bellissima da indossare quando si parte! Sai cos'è che noi lo stiamo mettendo addosso ma stiamo sognando ad andare via perché noi abbiamo ancora da lavorare! Abbiamo ancora da lavorare! Ancora alcuni giorni di lavoro poi anche noi ci prenderemo una pausa! Sì certo! Guarda qua che pausa! Guarda qua! Guarda qua che pausa! Partenza via! Bellissima! Tutte le taglie! Guarda! È spettacolare! Questa qua mi va benissimo! Io non l'ho stirata ma è lo stesso! Dunque! Oggi primo agosto ultima newsletter! E poi qualche giorno di lavoro e poi qualche giorno di lavoro e voi guarda! Cosa stai facendo? Sto guardandomi allo specchio a vedere se... Bella maglietta! Bella maglietta! Scelta! Il logo scelto da voi! Siete stati a voi a scegliere questo tipo di logo! E quindi guardate come è venuto bene! Grazie! Dunque! Restate con noi perché comunque anche durante le vacanze saremo attivi sui social! E quindi ci conviene andare a lavorare! Sì sì è meglio! Pronti partenza via per lavorare! Ok! Ciao amici vacanzelandia! Ciao ciao! 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 Grazie.